Hi guys! Benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui riuniti perché finalmente inizio una serie da voi tanto richiesta per tutto ciò che riguarda i capelli. Finalmente eccoci qua, la sto iniziando e la porteremo avanti puntata dopo puntata, serie dopo serie, insomma. Poi vedremo, ma con questo video do inizio a questa carrelata di video che regolarmente vi farò, piuttosto se avete qualsiasi tipo di curiosità fatemi domande nei commenti, io li leggo ed eventualmente ho qualche curiosità, io realizzo il video stesso. Per chi non lo sapesse, nella mia vita, lavorativamente parlando, faccio il parrucchiere. Ho studiato, sto studiando per fare questo, quindi oggi eccoci qui a parlare completamente nella mia comfort zone perché starò qui a parlare ore e ore, però i minuti sono limitati e non voglio farvi un pappardone di video di un'ora e passa. Quindi andremo al succo del discorso. Come nutrire i capelli e mantenerli sempre sani, morbidi e lucidi. Subito dopo, la sigla! Eccoci qui. Fatidica domanda, come mantenere i capelli sani? Partiamo dal principio. I capelli, ovviamente, nascono sani. I capelli hanno bisogno, fisiologico, di detersione e nutrimento. Analizzando questi due punti, la detersione e il nutrimento sono le parti più importanti. Andremo a vedere poi successivamente, per ogni tipologia di capello, che genere di detersione e nutrimento è più indicato. Ma diciamo che per linee generali ha bisogno di una detersione e di un nutrimento. La detersione appunto data dallo shampoo e l'idratazione e il nutrimento dato da balsami, conditioner, non mi piace chiamarli balsami. Chiamerò conditioner e maschere. Le maschere possono essere fatte prima dello shampoo, quindi maschera pre-shampoo o post-shampoo, come trattamento intensivo sostituendo il conditioner. Ma andiamo nel dettaglio. Prima di tutto, in ogni prodotto cosmetico troviamo l'Inci. L'Inci è la nostra leggenda dove possiamo capire realmente se un prodotto è valido o meno. Ora, non so neanch'io l'Inci a memoria di tutti gli ingredienti, a che cosa servono e qual è la loro caratteristica. Però, se cercate su internet Biodizionario, vi metterò eventualmente uno screen qui da qualche parte, Biodizionario vi dà tutti gli ingredienti, a che cosa servono, da che cosa sono ricavati, se sono di origine sintetica o se sono di origine naturale. Questo vale per tutti i prodotti cosmetici, dallo shampoo, dalla maschera, all'olio, al make-up, ragazzi, qualsiasi prodotto cosmetico all'Inci. L'Inci è la nostra leggenda, la nostra tabella per andare a analizzare e capire quale prodotto è realmente valido e se realmente funziona. Perché all'interno, quello che poi alla fine la casa produttrice ci promette, deve contenere quegli ingredienti che permettono ciò che promette l'azienda in sé. Quindi, per avere sempre un capello bello, sano, morbido e lucido, dobbiamo partire sicuramente da una buona base di shampoo. Lo shampoo non è tutto uguale, non è andare al supermercato e comprare uno shampoo, è uguale da spendere, spendere sempre tra virgolette 30 euro ed avere lo stesso shampoo. Non è lo stesso, c'è sicuramente una differenza a livello di ingredientistica all'interno dello shampoo. In questo caso, nello shampoo abbiamo degli agenti detergenti che sono diversi chimicamente parlando. Sono diversi, hanno diverse caratteristiche. Non staremo qui ad approfondire, ma è per farvi capire per linee generali il perché utilizzare uno shampoo piuttosto che un altro. Spendere 30 euro per uno shampoo non significa che lo shampoo di 30 euro sia bellissimo, buono, fantastico e quello del supermercato faccia schifo. Assolutamente no, perché poi nella realtà puoi trovare uno shampoo buono anche da supermercato e che relativamente costa meno. Non perché lo shampoo X costa 30 euro vuol dire che è buono, può anche far schifo. Perché ricordiamoci tutto che è personale, il tutto è personale. Uno shampoo buono, una maschera buona può essere buona per l'inci, per l'ingredientistica che ha all'interno. Può funzionare a livello di ingredienti, però magari tu su te stesso, sul tuo capello non ti ci trovi. Questo non vuol dire che un prodotto faccia schifo o meno, infatti anche quando do delle opinioni del tutto personali è perché io con quel prodotto non mi ci trovo bene. Un'altra persona può dirmi io mi ci trovo da Dio, lo continuerò ad usare, è il prodotto della vita. Mio consiglio personale è quello di utilizzare i prodotti più naturali possibili. Questo non significa di dover andare necessariamente ad acquistare un prodotto bio per essere naturale. Sicuramente facciamo un favore all'ambiente perché ci viviamo e dobbiamo mantenere questo che è in età il più pulito possibile. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, gli ingredienti naturali che si trovano all'interno dei cosmetici, quindi ciò oli e burri, che sono coloro che nutrono i nostri capelli, oltre alle varie proteine e prodotti comunque che sono estratti, ecco, non sono oli e burri ma sono estratti da piante e altre cose come le proteine per esempio. Dobbiamo cercare di utilizzare il più possibile questi prodotti con all'interno le materie prime funzionali per poter nutrire, di conseguenza ammorbidire, lucidare e di conseguenza preveniamo le doppie punte. Perché le doppie punte molto spesso sono una mancanza di nutrimento. Quando il capello è secco, sciupato, poi mettiamo magari su che abbiamo anche fatto qualche trattamento chimico, il capello si biforca alla punta, proprio perché è rovinato. Le cuticole sono aperte, il capello crea punte spezzate e doppie punte. Queste spezzandosi i capelli si vanno sempre di più accorciando. Non esiste nessun trattamento miracoloso che vi protegga dalle doppie punte e neanche ve le elimini. L'unico metodo per eliminare le doppie punte è la forbice. Quindi utilizzando prodotti più naturali possibili noi abbiamo un miglior nutrimento del capello stesso. Gli oli e i burri si trovano anche negli shampoo. Uno shampoo buono è ben bilanciato tra i tensioattivi che sono ciò che lavano e detengono il cuoio capelluto e una giusta combinazione a livello chimico con oli e burri. I tensioattivi mischiati ad altri ingredienti che poi realmente vanno a creare, a formare il nostro shampoo, sono essenziali per avere una corretta detersione. Molto spesso al supermercato o comunque nei prodotti generalmente conosciuti e che acquistiamo anche a basso prezzo, al supermercato, può essere in qualsiasi negozio che vende igiene per la persona, Molto spesso troviamo dei tensioattivi mischiati al sale. Voi direte, mettono il sale all'interno degli shampoo? Esattamente, mettono del sale all'interno per andare a detergere e a sgrassare ulteriormente il cuoio capelluto. Come se i tensioattivi e i detergenti non bastino. Ebbene sì ragazzi, molto spesso infatti, almeno negli ultimi anni, state vedendo sempre più degli shampoo in commercio, anche sul mercato, che c'è scritto necessariamente non contengono slas, non contengono sali, non contengono parabeni, non contengono siliconi, non contengono petrolati. Queste sono cose essenziali da evitare per avere sempre una chioma perfetta. Quindi, ricapitolando, detersione e nutrimento dato da conditioner o maschere il più possibili naturali. Voi dovete, semplicemente, quando andate a comprare uno shampoo, una maschera, cercare di evitare i siliconi, i petrolati, i parabeni e il sale nello shampoo. Dovete cercare di evitare i siliconi, i parabeni e i petrolati all'interno delle maschere e dei conditioner. Questo perché? Ve lo dico subito e ve lo spiego in modo molto molto semplice. Una volta che noi andiamo ad utilizzare un prodotto siliconico, che sia semplicemente e assolutamente contenga solo silicone, noi andiamo a proteggere la cuticola, il capello stesso. Quindi immaginatevi il silicone. Il silicone a che cosa serve? Serve a proteggere, a sigillare un qualcosa. Possiamo vederlo nell'utilizzo per sigillare le porte. E avete, vi siete mai chiesti che effetto dà sui capelli? Sui capelli non fa altro che andare a creare una pellicola, una membrana esterna, che vi va a lucidare e a chiudere il capello, in modo che qualsiasi tipo di nutrimento dato da oli e burri, non penetri all'interno. Un prodotto fatto solo ed esclusivamente e bombardato da siliconi, senza nessun olio e burro all'interno, non è un vero e proprio trattamento. Non fate altro che andare a sigillare il vostro capello. Apparentemente lo renderete bello, magari lucido e anche morbido. Dipende dalla tipologia di capello che avete. Se siete fortunati e vedete un buon capello, quindi con le squame chiuse, che non è crespo, che non ha particolari problemi, probabilmente vi troverete benissimo, perché avrete capelli leggeri, morbidi, lucidi. Basterà una passata di piastra e i vostri capelli letteralmente si cucineranno al di sotto. Quindi vedete questo silicone sui capelli come un vero e proprio soffocamento del capello stesso. Molto spesso, magari se avete occhio e guardate in giro, io lo so perché giustamente avendo a che fare con capelli e tipologie di persone, tipologie di capelli, le vedo queste cose. Molto spesso avete la tipologia di ragazza, signora, signore. Signore è più difficile perché ovviamente gli uomini usano uno shampoo e via. normalmente, diciamo, come persone mature. Difficilmente trovate un uomo con i capelli lunghi che sta realmente dietro al capello. Ci sono, però è difficile. Trovate quella tipologia di ragazza che ha quel capello sempre liscio, lucido, bello, setoso, leggero. Avete voglia di toccarlo, no? Magari è la classica ragazza che si fa sempre liscia perché ha i capelli mossi e li odia, no? Perfetto, se guardate quella tipologia di persona che fa un uso intensivo di piastra, ha i capelli sempre super lisci e lucidi, sembrano quasi finti, quasi sintetici, probabilmente quella persona usa dei siliconi. Per i prodotti siliconici che non fanno altro che andare ad accentuare questa lucidità, ma la caratteristica che li accomuna tutte è la fila di doppie punte che hanno appunto sotto alle punte. Se voi guardate le coltivano proprio, è proprio, sì, una vera e propria agricoltura di doppie punte. Bianche che si vedono, sono lì, sono morbidi, lucidi, ma sono piene di doppie punte. Questa è la classica ragazza che utilizza i prodotti siliconici. Prodotti siliconici che non fanno altro che andare a soffocare il capello al di sotto e, conseguenza, creazione di doppie punte. Creazione di doppie punte, capelli che si spezzano, capelli che si accorsano. Non avrete mai capelli sani. Tipologie di capelli sono anche avvantaggiate da ciò. Dite come, lucidi i capelli, li sembrano morbidi, sono tutto bellissimi, allora li utilizzo. Qual è il fattore negativo? Che voi non state nutriendo realmente i vostri capelli, voi state creando una patina trasparente al di sopra, che non fa altro che soffocare i capelli al di sotto. Conseguenza, doppie punte, capelli che si spezzano. Capelli che si spezzano, capelli sempre più corti, sarete costrette sempre di più a tagliarli, fino a che non vi ritrovate praticamente un bel caschetto. Se poi aggiungete pure il fatto che siete un po' violenti a pettinare i vostri capelli con una spazzola non adatta, praticamente vi ritroverete un bellissimo caschetto magari dai capelli lunghi a metà schiena. I capelli belli, morbidi e lucidi li potete ottenere anche con dei prodotti più naturali, che non contengono i siliconi. Soprattutto se abbiamo, o abbiamo mi ci metto pure io in mezzo perché non ho una bella tipologia di capello, ho un capello crespo, riccio e tendenzialmente secco, oltre agli innumerevoli trattamenti chimici che eseguo, di decolorazione, di stiraggio, perché giustamente avendo capelli crespi e ricci, se li devo portare così lisci e texturizzati, devo stirarli. Per portare questo colore devo decolorare. Quindi se mettiamo insieme tutti questi agenti esterni che andiamo ad effettuare sulla nostra chioma, abbiamo la distruzione totale della fibra capillare in sé. Finché il capello è naturale, possiamo stare un po' più tranquilli. L'importante, ragazzi, è non utilizzare prodotti siliconici. O meglio, utilizzarli, ma con accortezza, dopo aver nutrito adeguatamente il capello. Al suo mercato, ripeto, potete trovare dei buoni prodotti, sia di maschera che di conditioner che di shampoo. Basta far attenzione. Controllate sempre l'inci, collegatevi su Google, cercate Biodizionario e troverete tutta una lista di ingredienti. Vi basterà scrivere l'ingrediente che state cercando e che avete curiosità di sapere che cos'è realmente per scoprire se stiamo parlando di siliconi, stiamo parlando di petrolati, stiamo parlando di sali, stiamo parlando di tensiattivi, stiamo parlando di estratti particolari di piante, proteine, arginina, argan, olio d'argan, burri, ce ne sono miliardi. Se stiamo parlando di keratina, ragazzi, fate attenzione a ciò che comprate, non affidatevi all'etichetta o alla pubblicità che fanno in televisione, perché molto spesso i prodotti da pubblicità che fanno vedere, sono proprio quelli che non vanno. Non faccio nomi, voglio solo farvi una raccomandazione. Controllate bene ogni prodotto che comprate e diffidate sempre dai prodotti che appena applicati, immediatamente, neanche il tempo di applicarli vi lasciano i capelli super morbidi, soprattutto per i conditioner e per le maschere. Solitamente chi usa siliconi ha una radice grassa, pesante, appesantita appunto da questo silicone e le punte tendenzialmente molto secche, conseguenza doppie punte. Solitamente potete capire tramite questo breve e veloce test di analisi davanti allo specchio se utilizzate prodotti troppo siliconici, perché ricordiamoci che i siliconi vanno bene ma utilizzati con accortezza. L'importante è saper nutrire e detergere il capello in modo corretto. Se poi alla fine vogliamo andare a utilizzare un leave-in conditioner, un olio protettivo, un olio lucidante, quello non cambierà la nostra hair care routine e non cambierà la nostra morbidezza e lucentezza. Anzi, andrà ad esaltare. Ma ricordatevi che bisogna nutrire bene il capello a di sotto. Se poi dobbiamo andare a sigillare per contenere il trattamento e dare un effetto di booster al tutto, ci sta. Ma non fate una cura dei capelli solo ed esclusivamente con i siliconi. Ebbene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Fatemi sapere, se avete curiosità, qualsiasi cosa, mettete giù nei commenti, lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e fatemi sapere di che cosa vorreste che io parlassi nel prossimo video a tema capelli. Possiamo approfondire il tema dei siliconi, possiamo approfondire il tema dell'inci, possiamo approfondire tante cose. Fatemi sapere giù nei commenti e nulla. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti.